non puoi spettac... anche il sexo no... aspettate un attimo no, non è possibile, l'1.41 ma che palle fatemi racionare un attimo il computer va che cazzo mi sta a prendere ma che cazzo che palle, vabbè non cominciamo a scendere la il monitor almeno non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.